Ecco, però, è certo che in ogni caso, in tutta una relazione del processo, mai si trova qualcosa come una sentenza. E serve soltanto questa consegna. Fino all'inizio il pilato, del resto non ha fatto che pergiversare, ricordate, cerca di evitare a tutti i costi di dover giudicare, per annunciare il giudizio, lo rimanda Erode all'inizio sollevando una questione di competenza, poi fa flagellare l'accusato verso tratto l'accusa, solo alla fine lo consegna, senza però pronunciare la sentenza. Quindi è stato un processo, ma questo non si è concluso con un giudizio. Questo arriva il mio problema ancora più oscuro, no? Che cos'è un processo senza giudizio? E ancora di più, che cos'è una pena? La crocifissione, perché la pena con Gesù si sottopone, se non consegna un giudizio. In certo senso, quindi, Pilato, il prefetto della Giudea, non ha pronunciato un giudizio su Gesù. Gesù, quindi, il regno di questo mondo, si è sottoposto al potere legittimo di Pilato, ma Pilato non ha pronunciato un giudizio. Un grande giurista italiano, che è anche un grande scrittore, Sebastiano Satta, ha scritto nel 1968 un bellissimo libretto di consiglio, se avete tempo di leggere, che si chiama Il mistero del processo. Era una specifizia di diritto processuale. E' forse la più acuta riflessione che un giurista abbia mai fatto sulla sua banca. Satta si chiede che cos'è il processo, che cosa tende a un processo, e risponde, è del tutto forniente rispondere come si fa di solito, che il processo tende all'attuazione della legge, alla ricerca della giustizia, a trovare la giustizia, la verità. Satta, la sarganistica risponde, se ciò fosse vero, non si comprenderebbe la forza del giudicato, che comprende una sentenza, indipendentemente dal suo essere giusto o giusto. Non puoi sapere che la sentenza si fa a essere un giudicato, non importa se fosse sbagliato o giusto o non giusto. Quindi, è una santa trae la conseguenza che se ci deve essere uno scopo al processo, questo non può essere altro che il fatto di pronunciare un giudizio, non un giudizio vero o falso, un giudizio. La pronuncia di un giudizio è svedicata a quella sentenza che si sospisce la verità e la giustizia, è il fine ultimo del processo decisato. Prodiciamo che questo non è uno scopo esterno al processo, perché il processo dall'inizio alla fine non è altro che, come si diceva appunto, il processo del processo, il processo sui giudici è il processo di formazione di giudizio. In questo senso, è un atto che in sé stesso il suo scopo non va a uno scopo. E questo che ci sa è il mistero del processo, che è lo stesso mistero della vita che procede e si svolge l'inchiesta senza scopo e senza sosta, finché per umante non si è resta per sottoporre il giudizio. E di quest'altro, senza scopo, di quest'altro, gli uomini sembrano aver fatto e attribuito una natura divina, no? Se non si sono andati in valida a questo giudizio. E qualora se questo è vero, se è stata ragione, credo che abbia ragione, un processo senza giudizio come quello di Pilato e Gesù è una contraddizione in termini. Questo è tanto vero che i codici moderni, a cominciare dall'articolo 4 del codice di Napoleone, sanciscono l'obbligo per il giudice di pronunciare il giudizio. E' una specie, invece di circolto dell'articolo 4, il giudice che si definirà di giudicare sotto quel testo di silenzio, scurità e insufficienza della legge, potrà essere perseguibile in quanto coltevole di niego di giustizia. Vedete, quindi il processo è un debito in un giudizio, almeno per lo moderno. Ecco, quindi questo letto decisivo della storia dell'umanità, di incontro, scontro tra i due mondi, l'umano e il divino, il temporale e l'eterno, ha la forma di un processo che non è veramente tale, perché non si conclude con il giudizio. Se non vi è stato il giudizio è anche la pena. La crocifissione non è una vera pena. E come il processo è qualcosa perché è difficile trovare un uomo. Pasquale ha scritto una cosa molto profonda, ha scritto Cristo ha voluto essere ucciso nella forma della giustizia perché questa è la morte più ignominiosa. E però, allora, ancora più ignominiosa è la morte che non consegue un processo, perché non c'è stato il giudizio, oppure segue un processo senza il giudizio. Ed è questa quanto sembra la morte che Gesù ha scelto di subire. E' un po', se ricordate il processo di cantica, è un po' come la morte del protagonista del processo. Anche qui non c'è assolutamente una sentenza, in tutta forse non c'è nessuno nello stesso processo, e tuttavia alla fine il coltello a la scena, il coltello del canto che si è pesa, il cuore non ciò si accattano, che dice che il padre è una sua vergogna, è una serie di sopravvissuta, quindi una morte veramente ignominiosa. Allora, se questo è vero, e mi pare che sia ideologicamente vero, perché non si è voluto vedere questo fatto evidente quanto imbarazzante? Invece sempre si è visto il processo di bilancio come un processo di termina come la sentenza di un'altra morte che c'è. Ecco, io credo che non si tratti di una negligenza di lettura, di alla base della fondamentale ragione ideologico-politica, che per esempio tra tanti autori, Dante esprime con chiarezza nel demonarchia, Dante nomina Pilato nel demonarchia, e dice che perché l'umanità fosse riscattata dal peccato attraverso la crocefissione, era necessario che Cristo fosse sottoposto al giudizio del giudice legittimo, che avesse la giurisdizione su tutto il genere umano. E in questione è la redenzione di tutto il genere umano, e quindi è importante che Cristo subisse una condanna da un giudice che rappresentava un giudice su tutto, come era l'impero romano. Un tale giudice potrebbe essere quindi soltanto rappresentata dall'impero romano, cito qui vicino Dante, se pertanto Cristo non avesse subito il giudizio di un giudice legittimo, la sua pena non sarebbe stata una punizione. Il giudice legittimo potrebbe essere solo quello che aveva la giurisdizione su tutto il genere umano, in modo che il genere umano fosse punito nella carne di Cristo. E Tivello scelta che Pilato era radicale, non avrebbe avuto la giurisdizione se l'impero romano fosse stato legittimo. Come vedete c'è proprio una ragione teologico-politica, Dante si tratta di giustificare il potere dell'impero e quello della Chiesa, non con i padri di fronte all'altro, ma legati da questo fatto, non che non può essere come l'accesso di Gesù, non avere questo incontro di sicurezza. Quindi Dante non ha fatto riprendere un preantico motivo che era stato lavorato dai padri a partire dal momento in cui c'è l'alleanza tra la Chiesa e l'impero con Costantino, quindi Eusebio, uno dei grandi padri della Chiesa, che è stato ironicamente definito il parrucchiero della Tarrucca di Costantino, e poi Fiorno, Brogio, Trisodio, sviluppano tutti questi punti per questo motivo. È importante che l'impero romano sia un potere legittimo su tutta la terra, perché in questo modo Cristo, sottoponendosi a questo potere, no, può redimere l'impero e l'umanità. La lettura diventa importantissima in questi autori il fatto, come ricorderete, che quando, al momento della nascita di Gesù, Augusto proclama, come detto, il censimento di tutta la regolazione dell'impero. E quindi Cristo, che si è fatto uomo, risulta, è iscritto, censito come uomo nel censimento di Augusto. Per questo punto, ancora una volta, stringe insieme, in una, appunto, in prospettiva teologico-politica, i due mondi, i due poteri. E credo che sia anche questa la ragione per cui Pilato è stato incluso nel fredo, lo sapevo in Italia, soltanto perché storicamente era una data importante, ma anche perché il potere, che ormai era un allegato nella Chiesa, di discipularsi. Se però Pilato, com'è nella mia ricostruzione, non ha emesso un giudizio legittimo, allora questo appuntamento tra i vicari di Cesare e Gesù, tra la legge umana e il divino, tra la città terrena, quella celeste, viene a provare per la soluzione di raggiungere. E credo che venga a cadere, appunto, ogni possibilità di una giustificazione teologico-politica, di una teologia politica cristiana, la giustificazione teologica del potere profano. E quindi siamo ricondotti davanti a un altro mistero, che non è quello del processo del giudizio, ma quello del processo senza giudizio, un processo in cui nessuna delle due parti può giudicare. Quando Santa dice il mistero, il processo del mistero, il mistero prima inteso nel senso che era di origine la parola in greco, cioè un dramma, un dramma quasi di dramma. Il mistero sì, era una specie di pantolima a cui l'ho iniziato a sisteva, che aveva una scena, una vicenda celeste divina in cui la sua esperienza poteva volentarsi. Però questa zona che i due mondi sono separati. non c'è giudizio. E' ovvio che non c'è giudizio da parte di Gesù, perché questo è del tutto coerente, non solo con la sua posizione di guidato, ma anche con le sue parole, ricorderete, la critica radicale di ogni giudizio, che è parte essenziale dell'insegnamento di Gesù. In 5 Matteo 7,1, non giudicati, affinché non siate giudicati. Per cui fanno le cose parole di Paola nelle lettere romani, ma è giudicato, non giudicati. E nel baggero di Giovanni con ancora più forza, c'è proprio un fondamento teologico di questo divieto che ha fermato la chiesa. E Giovanni 3,17, Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicarlo, ma per salvarlo. E comunque c'è quindi il monito non giudicato, ma qui la sua ragione l'Eterno non vuole giudicare il mondo, vuole salvarlo. Almeno fino alla fine dei tempi giudizio e salvezza si escludono nella ricetta. Se questo è vero, perché colui che non giudica dovrebbe essere sottoposto al giudizio legittimo di un giudice e nel regno Eterno essere consegnato al giudizio dell'Eterno? Come vedete, la ricetta sarà questo incontro si fa sempre per l'Eterno. Giudizio da parte di Gesù non ci può essere, lui però si sottopone a un potere in cui sembra riconoscere l'autorità e questo potere anche lui non giudica. Quindi Pilato e Gesù indicare il regno montano e le celeste si stanno uno di fronte all'altro nel pretorio di Gerusalemme. tra l'altro gli archeologi hanno creduto identificare gli oroscani in questo luogo che forse non è lontano sembra l'effetto da dove si trova attualmente il palazzo di giustizia in Israele in Petra lo stesso in cui nel 1963 il punto di capo è condannato Adolf Eichmann. Quindi per testimonare la verità Gesù deve affermare e nello stesso tempo smentire il suo regno che non è di questo mondo e tuttavia come diceva Cis l'ansia portata di mano. Dal punto di vista del diritto la sua testimonianza non può che fallire e finisce infatti una farza la corona di spiglia il matto di porco la macchina non è scelto. Quindi Gesù che è venuto non a giudicare il mondo ma a salvarlo si trova forse proprio per questo a dover rispondere in un processo a sottostare a un giudizio che però il suo alter ego più lato non pronuncerà non può pronunciare. Giustizia e salvezza non possono essere concedati. Tornano ogni volta e una cosa mi sembra escludersi di scelta anche se i sensi chiamano di scelta. Per questo nel palito di pietra di giuribranico che abanà né il giudizio né la salvezza hanno luogo e si finiscono in un comune indeciso e indecibile l'ordine di giuribranico. non si lascia che non può mai essere decisa una volta per il pietra. l'ordine di giuribranico l'ordine di giuribranico esemplice in questo scontro fra i due mondi tra Pilato e Gesù si attesta in un certo modo nelle due idee chiari della modernità. Da una parte che la storia sia un processo infinito la nostra concezione della storia è un processo infinito e dall'altra che questo processo in quanto non si conclude in un giudizio in volta per tutte si è stato di crisi permanente. Da quando la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico sapete che la Chiesa non ama più parlare alla fine dei tempi nel giudizio universale il termine crisi spostato dal suo luogo giudizio finale riappare oggi in forme catologiche in ogni ambito innanzitutto come sapete bene ma come strumento di governo sapete bene che oggi la parola crisis non è un concetto è soltanto uno strumento di governo per imporre alla gente misure che non c'è nessuna ragione in Italia. E con questo spostamento il termine diventa appunto una parola d'ordine e il termine il suo significato proprio e allora farei qualcosa in considerazione su qual è questo significato proprio. Nel termine crisis a parte la tradizione giuridica di cui ho parlato convergono due grandi selezioni una medica e una teologica. Nella medicina antica crisis designa il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente sopravviverà o no. Questo è il momento della crisis anzi nella tecnologia della medicina antica è il giorno decisivo di es decretore il giorno decisivo e questo è un giudizio decisivo legato a un momento come vedete legato a un momento preciso nel percorso della mattina. L'altra tradizione più veloce è la crisis come forse sapete che è il termine greco del nuovo testamento per il giudizio finale. L'annominio anche qui però il giudizio finale è legato a un momento l'ultimo giorno l'unissima crisis quindi vedete che nella tradizione che converge nel significato la parola crisis il giudizio che è in questione è sempre legato a un momento ed è un giudizio che si prende una volta a tutti. che sia il giudizio del medico sulla sopravvivenza o il mio paziente o il giudizio finale. Oggi l'ecella crisi è stata separata dal suo giorno decisivo e trasformata in una condizione permanente. Conseguentemente la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero come è venuto a Pilato e come avverrà forse a noi si rovescia improvvisamente in catastrofe. L'indeciso Pilato non fa che decidere senza decidere il deciso Gesù non ha alcuna decisione da prendere.